C'è stato un grande successo, un lavoro di squadra, abbiamo fortemente creduto, vorrei ricordare alla città quale altro bombardamento che subimmo a gennaio quando la sezione regionale non accolse il nostro piano, subito si mossero gufi, avvoltoi, dicevano che Napoli era morta, che Napoli era in discesso, invece abbiamo retto, ci siamo messi a lavorare, abbiamo fatto il ricorso, abbiamo continuato il risanamento, vorrei dire che con questa decisione della Corte dei Conti il 9 luglio noi ci avviamo per la fine del mio mandato a pagare a 60 giorni i creditori, è una rivoluzione economico-finanziaria fatta con le mani pulite, quando ci siamo insediati il Comune di Napoli pagava 4 anni, andiamo con un pagamento di 60 giorni, questo è dovuto a un grande lavoro di squadra, voglio ringraziare tutti e soprattutto è un messaggio di grande speranza, concretezza e vita per la nostra città, quindi adesso siamo impegnati subito a far vedere visivamente che significa questo giro di boa che ha rappresentato la decisione della Corte dei Conti il 9 luglio.